Io parlo della campagna elettorale che ho fatto io e posso dirle che sono ancora convinta che l'Emilia Romagna sia una grande locomotiva italiana non grazie al Partito Democratico. Sono ancora convinta che l'Emilia Romagna sia una grande locomotiva italiana nonostante il Partito Democratico. Perché il problema che secondo me ha avuto la sinistra in questi anni è che essendo sempre così convinta di vincere alla fine ha finito un po' per limitarsi a gestire il potere. Le faccio un esempio della campagna elettorale. Io sono stata a certo punto a Cesena dove c'era un cantiere della E45, grande arteria italiana, fermo da due mesi a seguito di un crollo. Annuncio che avrei fatto un flash mob per denunciare il fatto che il cantiere era fermo. Cioè tutti là una specie di manifestazione stensorale. Sì, andiamo lì a dire, non so ma non si è fatto niente. In un'ora c'erano gli operai. Come è uscito il comunicato. Bravi, è bravo. Infatti questo ho detto. In un'ora c'erano gli operai, in due giorni era risolto il cantiere. Io scherzando ho detto, figuratevi se con la sola forza del pensiero riusciamo a mettere a posto i cantieri. Lo faccio pure qua a Roma allora, manco da Milano. Però che significa? Significa che la sinistra ha aspettato me per risolvere il cantiere. Perché prima non ci aveva pensato. Alessandro Salloni.